razziati 11 garage a muraglia rubata anche una porsche i gabbiani divangi volano su piazzale matteotti decoro urbano stop a ogni asporto di cibo su cardo ed ecumano completato il parcheggio gratuito di villa marina caos e pericolo ad un incrocio stradale di borgo santa maria buona serata a tutti voi amiche amici di rossini tv ben ritrovati di una nuova edizione del nostro spazio dedicato all'informazione serale lo spazio di rossini news il nostro telegiornale che in questa edizione di venerdì 10 giugno apriamo con la cronaca che arriva da pesaro dove con cadenza sempre più frequente imperversano bande di ladri d'automobili dopo un paio di mesi di tregua riecco le bande dei furti d'auto dopo i colpi in serie avvenuti fra febbraio e marzo che avevano visto in azione criminali professionisti depredare autovetture in tante zone della città questa volta i ladri si sono accaniti nel quartiere di muraglia con una tecnica ben precisa nella notte fra mercoledì e giovedì 11 garage sono stati violati da una banda di professionisti che ha tagliato con un frullino le serrande basculanti delle auto rimesse penetrando all'interno e racimolando un bottino di tutto rispetto già perché i malviventi sono riusciti a prendersi una porsche con amarissima sorpresa del proprietario non meno dolci le sorprese di chi si è visto sottrarre tre bici una delle quali del valore di 5 mila euro nel dettaglio i ladri hanno aperto sei garage di un condominio in via guerini altri quattro in via petrarca e un altro ancora in strada dei condotti i condomini sono stati derubati nel sonno e al mattino hanno constatato i furti prontamente denunciati alla questura la polizia indaga su ogni elemento utile dalla videosorveglianza alle tracce di pneumatici sull'asfalto fino alle testimonianze chiaro che si tratta di professionisti del furto probabilmente trasfertisti e che forse si sono serviti pure di camion per caricare auto e bici e cambiamo argomento la centralissima piazzale matteotti di pesero è destinata a modificare radicalmente il suo colpo d'occhio grazie all'opera scultore realizzata da giuliano vanci che sarà inaugurata domani ma che oggi è stata presentata in anteprima alla presenza dello stesso autore dell'installazione è stato un venerdì di ultimi ritocchi all'allesterno investimento dopodiché domani sabato 11 giugno alle 11 30 l'installazione gabbiani delle maestro giuliano vanci sarà inaugurata cambiando radicalmente il profilo di piazzale matteotti oggi nelle comune di pesero l'artista e scultore 91enne ha presentato in anteprima i suoi gabbiani destinati a volare sul piazzale d'accesso al centro storico un volo volto a celebrare i 140 anni delle autoline bucci e l'epopea di una famiglia di pionieri del trasporto pubblico cittadino una colonna un capitello e un uomo che si erge alzando le braccia toccando il volo dei gabbiani simbologia di un desiderio di libertà e di un controverso rapporto fra uomo e natura che vangi ha realizzato utilizzando materie di grande resistenza e adattabilità all'ambiente granito rosso acciaio inossidabile e alluminio rappresenta la libertà c'è quest'uomo c'è questo grande desiderio quasi di volare insieme ai gabbiani c'è questo senso di movimento di libertà di desiderio di volare con con i gabbiani di lasciare tutti i pensieri terreni per i pesi della vita quotidiana per volare in uno spazio libero qui celebriamo due cose in una celebriamo l'anniversario dei 140 anni di attività e celebriamo la grande scultura del maestro vangi che ne rappresenta la materializzazione rappresenta la materializzazione di questa memoria è qui a perenne ricordo quindi effettivamente è una festa grossa che coinvolge tutta la città immagino perché è questa statua nel pieno centro della città e quindi domani è un bene pubblico e l'opera di vangi diventa dunque un ornamento per quella che è una delle piazze d'accesso al centro storico un centro che vuole essere sempre più un salotto della città e questa l'intenzione del regolamento sul decoro urbano che dopo lungo dibattito ha trovato ieri una convergenza di intenti ieri sera la commissione comunale convocata per l'occasione ha limato gli ultimi spigoli il regolamento sul decoro urbano in centro storico stilato quattro mesi fa dal lavoro dell'assessora all'innovazione francesca frenquellucci ha trovato un'intesa fra tutte le parti coinvolte e sostanzialmente l'ha trovata su un punto quello che ora prevede che non sarà più consentita l'apertura di nuove attività da sporto di cibo sia locale che etnico sul cardo e sul decumano vale a dire in piazza in via branca via rossini via san francesco e corso 11 settembre le attività esistenti di questo tipo restano ma con accorgimenti appunto in termini di decoro per le nuove attività che riguardano il codice a teco dell'asporto e si intende food si intende non so ad esempio la piadineria la frigitoria ma nel resto del centro storico possono aprire quindi parliamo solamente del cardo e del decumano ma nelle altre vie secondarie possono aprire questo anche perché andiamo ad allungare la passeggiata sia del turista ma anche del cittadino pesarese che può trovare queste bontà comunque sia del territorio comunque anche straniere nelle vie secondarie cioè non è cambiato niente è stato solamente levata il fatto che dove diciamo c'era una nota che specificava che comunque si faceva una un'eccezione per i prodotti locali questa cosa non è stata ben vista ma io l'ho accolta da subito da gennaio dalla richiesta della maggioranza perché appunto non volevo creare assolutamente nessun tipo di probleme però comunque un regolamento importante come ci stiamo muovendo su tutto quello che è il dehors cioè l'arredo esterno che ha un regolamento deve essere adeguato quindi le attività si devono adeguare daremo qualche mese di tempo per chi ha già ma i nuovi che arriveranno dovranno subito adeguarsi al regolamento che era stato votato con il consiglio precedente che era nel 2019 quindi fondamentale tenere la linea anche perché ricordiamo che Pesaro è 2024 capitale della cultura quindi dobbiamo crearlo questo salotto a cielo aperto nel centro storico per ratificare l'accordo non resta ora che attendere l'approvazione in consiglio comunale fissata al 20 di giugno è stato fatto un grande lavoro dove anche la maggioranza in questi mesi diciamo ci siamo confrontati e quindi è stato anche migliorato e con i consiglieri ringrazio il presidente della commissione Lorenzo Lugli che ha appunto accolto e ha voluto avere un confronto anche con la minoranza è un regolamento sicuramente importante per l'attività e lo sviluppo del centro storico ma soprattutto anche punta ad aiutare le nuove imprese i giovani e le donne c'è un articolo proprio dedicato a dei bandi che farà il comune per aiutare le nuove imprese che apriranno nel nostro nel centro storico quello che è importante pensare è che il lavoro è stato fatto inizialmente con le associazioni di categorie e poi condiviso con i consiglieri tutti e devo anche dire che il consiglio di quartiere è stato di grande aiuto perché in questi mesi comunque ci ha fatto notare anche delle cose che in centro andavano modificate e migliorate ed è stato anche completato e inaugurato questa mattina il riqualificato parcheggio di Villa Marina un parcheggio di 4000 metri quadrati sul lato nord di Viale Trieste un parcheggio libero e gratuito 24 ore su 24 che accoglie 170 auto e 63 motorini prevede stalli per le persone con disabilità e fra pochi giorni ci saranno anche servizi igienici gratuiti a completare l'intervento da 200 mila euro una nuova pavimentazione la piantumazione di alberi una rete di raccolta delle acque meteoriche dei cordoli di delimitazione segnaletica orizzontale e verticale e poi anche un murale quello realizzato da Filippo Giovannelli facente parte il progetto mural vernacolo parliamo di un incrocio stradale quello presente tra case bruciate e borgo Santa Maria che spesso non viene rispettato creando grossi pericoli alla viabilità e all'incolumità di pedoni ciclisti e automobilisti questo il problema alla base della segnalazione fatta a Rossini TV dal portavoce del comitato di Borgo Santa Maria ci troviamo questa mattina all'incrocio tra case bruciate e Borgo Santa Maria un incrocio che viene regolato dal segnale che potete vedere alle mie spalle un segnale di obbligo di proseguire dritto e proprio questo segnale spesso non viene rispettato perché molti conducenti mettendo a repentaglio la loro vita ma soprattutto quella degli altri girano e svoltano verso sinistra non rispettando il codice stradale un problema che è stato sollevato da alcuni residenti di Borgo Santa Maria che lamentano questa situazione che va avanti da troppo tempo ed è una situazione che è peggiorata sicuramente dopo la rimozione della rotatoria provvisoria installata dal comune di Pesaro in New Jersey questo è un problema che va avanti da sempre qualche anno fa qui c'era una rotatoria provvisoria una rotatoria pericolosissima che è stata su questa rotatoria proprio per il tempo massimo delle rotatorie provvisorie che poi o diventano definitive o definitivo una rotatoria qui è impossibile come era progettata quella di allora per cui si è ritornato alla vecchia viabilità però una viabilità che è pericolosissima perché qui girano tutti a sinistra nessuno rispetta, tirano per Pesaro nessuno, anche i camion grossi, li abbiamo visti anche adesso oltre alla velocità di chi viene giù nessuno rispetta il divieto di svolta voglio ricordare che il comune dice che questa rotatoria c'è in progetto dalla società Autostrade che ce l'ho io qui sotto mano è un progetto bellissimo però è costosissimo, molto costoso mentre voglio anche ricordare che oltre a questo questo è un progetto mi pare del 2016, 2017 non so esattamente però voglio ricordare che c'è un progetto del 2006 che era funzionale era molto funzionale quando tutta la vallata era in piena attività produttiva quindi non capisco e sarebbe venuto a costare due terzi in meno non capisco perché anche se paga dicono la società Autostrade perché spendere tanti soldi quanto con molto meno si potrebbe fare una cosa che era funzionale quando c'era più traffico perché con la differenza di quei soldi si potrebbero fare tante altre opere proprio per la viabilità e quant'altro ci sono state fatte diverse riunioni ed è venuto qui a Case Bruciate ultimamente non molto tempo fa l'assessore Belloni e gli hanno fatto anche questa domanda perché fare una rotatoria che costa tre volte tanto quando c'era già un progetto del 2006 che il Comune avrebbe potuto tranquillamente fare con i soldi suoi perché era fattibile l'assessore Belloni ha detto che questo è un progetto dice non siamo noi alla società Autostrade che lo vuole beh io mi dispiace ma smentire l'assessore Belloni però voglio semplicemente ricordare che questo è un documento del 21-11-2016 ed è una delibera di Consiglio Comunale dove nuova rotatoria a Borgo Santa Maria si tratta di una nuova rotatoria e bla 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 che sarebbe questa nuova che costa tre volte tanto quindi da un lato c'è la società Autostrade che non dice io faccio questo la società Autostrade dice io devo fare tot devo spendere tot soldi per le opere compensatorie tu Comune mi dici cosa devo fare e quindi spetta al Comune decidere quello che deve fare Martedì 14 giugno il sindaco di Pesero Matteo Ricci festeggia i suoi otto anni di mandato da primo cittadino nel cortile dei musei civici a partire dalle 21 ci sarà un momento di incontro aperto alla cittadinanza per parlare di cultura, sport, mobilità sostenibile infrastrutture di una città che ha voglia ancora di guardare al futuro ad intervistare il sindaco sarà proprio la nostra direttrice di Rossini TV Emanuela Rossi nonché Maurizio Blasi ex caporedattore del TGR Marche e dopo sole tre notti di lavoro Marche Multiservizi ha completato le opere di risanamento di un tratto fognario di 55 metri nella centralissima via Branca di Pesero per tre notti si è lavorato fra le 9 di sera e le 6 di mattina per realizzare l'intervento in tempi contenuti creando il minor disagio possibile attività commerciali, residenti e turisti un lavoro che rappresenta il secondo lotto dell'intervento di risanamento del collettore fognario di via Branca la cui prima parte è stata realizzata a gennaio sempre con la stessa modalità mercoledì invece si è svolta a Roma la cerimonia della premiazione della decima edizione del contest i futuri geometri progettano l'accessibilità organizzato da FIABA Onlus e dal Consiglio Nazionale Geometri Laureati in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione un concorso che premia i migliori progetti scolastici di abbattimento delle barriere architettoniche nel costruito sul podio per il terzo anno consecutivo c'è finito l'indirizzo tecnologico dell'Istituto Bramante Genga di Pesaro che anche quest'anno ha conquistato il secondo posto grazie all'impegno degli studenti della quarta G e dei loro docenti coordinati dal professore Luca Bondi la categoria nella quale la classe ha concorso in questa edizione è quella delle strutture dedicate al tempo libero e parte invece domani nelle Castello di Gradara la prima tappa delle Giro d'Italia Under 23 una competizione che vede sfidarsi i migliori giovani talenti internazionali di ciclismo la prima tappa si svilupperà a lungo il confine tra Emilia Romagna e Marche la partenza è proprio dal castello medievale di Gradara per poi attraversare San Giovanni Marignano Sant'Andrea in Casale Nisano Monte e Coriano fino all'arrivo a Argenta sul fiume Reno una manifestazione che è motivo d'orgoglio per Gradara che ospita il Giro per il secondo anno dopo il transito avvenuto nel 2020 la musica e le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono alle celebrazioni del ventennale dell'Accademia Tebaldi del Monaco creata da Mario Melani docente del Conservatorio Rossini e diretta dopo la morte del maestro dall'allievo Nino Lezava affermato soprano Giorgiano i concerti che state vedendo si riferiscono in particolare allo Stabat Mater tenutosi presso la chiesa di San Giovanni Battista a Pesaro dopo l'anteprima a Roma la Basilica di San Paolo fuori le mura ma anche al concerto di musica lirica presso la chiesa della Maddalena in occasione del centenario della nascita di Renata Tebaldi eventi che sono organizzati in collaborazione con l'associazione Ars Musica che hanno riscosso notevole successo per le capacità vocali e tecniche dei giovani interpreti l'Accademia Pesarese ha anche creato una succursale a Tbilisi che sta creando un ponte culturale tra la Georgia e Pesaro in continuità con i rapporti precedenti intrapresi fra l'Accademia e il Conservatorio dove attualmente sono presenti numerosi allievi georgiani rapporti che saranno potenziati con la filiale di Tbilisi presente in questi giorni a Pesaro per i vesteggiamenti e vieni a consolare il pianto il mio se ne chi a me di dar e ci morte me ti prenda se il maglio non professe ci morte me sicura resti la mia difesa anche il comune di Urbania partecipa alle celebrazioni del 600esimo anniversario della nascita del Duca Federico da Montefeltro lo fa con una mostra inedita accompagnata da iniziative collaterali adatte ad ogni età Casteldurante, l'antica Casteldurante Urbania anche quest'anno fa un'importante iniziativa un'interna mostra a Palazzo Ducale di Urbania e quest'anno non potevano essere legate ai festeggiamenti federiciani festeggiamenti solo per la nascita di Federico da Montefeltro il Palazzo di Urbani si appresta ad aprire questa mostra alla fine di giugno resterà aperta fino a ottobre e questa mostra avrà uno spaccato particolare perché coinvolgerà anche un importante personaggio che è il Cardinal Bessarione amico di Federico da Montefeltro una persona che salva questi codici e li porta in Europa perciò salva la cultura greca li porta in Europa e con sé anche la classicità insomma se siamo quello che siamo oggi lo dobbiamo imparte anche a lui la mostra sarà preceduta da una rievocazione storica il 19 di luglio che in qualche modo anticiperà questo arrivo del Cardinale Bessarione Urbania e coinvolgerà anche la popolazione questa anticipazione della mostra questa rievocazione sarà fatta con un'associazione di Urbania che è il palchettone perché appunto tutte le attività e saranno tantissime che arricchiranno la mostra di esperienze immersive saranno fatte con associazioni di Urbania ci teniamo molto a valorizzare il nostro territorio e a farlo con chi Urbania si impegna tutti i giorni un appuntamento molto bello e molto suggestivo sarà sicuramente la cena rinascimentale che sarà fatta nel Torrione del Palazzo Ducale un punto panoramico meraviglioso e sarà fatta con l'associazione Maccaroni che non solo cucinerà piatti dell'epoca della corte ma anche fare un allestimento a tema rinascimentale quindi una cena molto suggestiva in cui si potranno assaporare e rivivere i momenti dell'epoca oltre a questi due momenti molto belli saranno disponibili durante tutta la settimana perché appunto la nostra volontà è quella di dare al visitatore che vorrà scoprire la mostra ma anche la nostra città, la nostra vallata delle esperienze durante tutta la settimana quindi faremo delle visite pensate per bambini, per le famiglie con delle attività, con delle guide abilitate che renderanno la mostra più accessibile anche più simpatica, più interattiva per i bambini e faremo sì che anche il sentiero del Duca che è il percorso che il Duca ripercorreva salendo il fiume Metauro dal Palazzo Ducale al Barco Ducale si è vissuto in maniera totalizzante ripercorrendo appunto questo sentiero storico nella natura e concludiamo il nostro telegiornale con una notizia di sport perché domani sera a partire dalle 20 c'è una partita che per l'Ital Service Pesaro potrebbe staccare potrebbe consentire di staccare il pass per un'altra finale scudetto gara 1 di semifinale Plof ha infatti visto Pesaro dominare ad Aversa con Napoli con una vittoria per 6-1 ma il regolamento delle semifinali non prevede il calcolo della sommatoria di gol perciò domani alla Palafiera si riparte dallo 0-0 se l'Ital Service vince e va in finale potrebbe andare in finale anche se dovesse pareggiare se invece dovesse perdere andrà giocata gara 3 un appuntamento che dunque riporterà finalmente l'Ital Service a giocare al Palafiera e che si vuole coronare con un grande risultato si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News ora prima di salutarci vi ricordiamo qualche appuntamento sulla nostra emittente a cominciare dalla prima serata di questo venerdì 10 giugno che prevede una nuova puntata della TV dei viaggi appuntamento alle 21.20 con le bellezze del Marocco e poi per chi si fosse perso prima del TG alle 19 Vox Pop la voce dei pesaresi potrà rivedere questo nostro appuntamento fisso del venerdì con la prima replica già questa sera alle 22.30 e poi con le altre repliche che vedete in grafica che partono domani alle 13.45 tema di questo Vox Pop Movida e Isole Pedonali il Viale Trieste visto dai pesaresi l'informazione di Rossini TV poi torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini la nostra segna stampa che per l'occasione sarà condotta da Antonio Astuti sabato c'è anche un altro nuovo appuntamento quello delle 18 che prevede la recita materna realizzata dalla scuola dell'infanzia e sacro cuore dal titolo Il meraviglioso mondo degli insetti appuntamento alle 18 con replica domenica alle 20.30 ed è davvero tutto per questa edizione del telegiornale da parte mia e di tutta la redazione vi auguro una buona serata e un buon weekend in compagnia dei nostri programmi